Quando c'è degrado morale e gli uomini onesti non fanno nulla, il male si diffonde. Una società che non impara dal passato, non ha futuro. Non dobbiamo mai dimenticare la nostra storia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. Edgar, tu diventerai l'uomo più potente di questo paese. Io dico che chi entra a far parte di questo bureau deve comportarsi in modo tale da eliminare anche la minima possibilità di critica alla sua condotta. Signor Toulson, io ho bisogno di uno di cui fidarmi. Voglio fare di lei il mio vice. Capisce? Ho bisogno di lei. Pensa se ogni cittadino di questo paese fosse identificabile solo dall'impronta delle sue dita. Pensa come scoveremmo rapidamente chi commette un reato. Ha presente il dossier che abbiamo raccolto su sua moglie? La signora Roosevelt. Me ne faccia una copia, per favore. È legale. Qualche volta occorre piegare un po' le regole per garantire la sicurezza del paese. Le trascrizioni me le lasci qui. Le faccia pure leggere a suo fratello, signor Kennedy. Gli dica che io ne ho comunque una copia. Il presidente ha paura. Tutta l'ammirazione del mondo non può colmare un vuoto d'amore. Siamo noi i peccatori, Edgar. Abbiamo tollerato l'illegalità nel paese fino a farle raggiungere proporzioni diaboliche. L'insangue è sulle tue mani, Edgar. Che titoli ha lei esattamente per essere a capo di questo bureau? Che titoli ho, signore? Non so più di chi posso fidarmi. Ho capito cosa sei! Un ovetto senza cuore, meschino e spaventato! Non afflusciarti come un fiorellino. Sì, forte. Sì, mamma. Questa generazione deve capire la differenza tra eroe negativo ed eroe positivo. Anche i grandi uomini si possono corrompere.